Buon primo maggio, buon primo maggio a tutti. La festa del primo maggio è una festa di tutti, una festa importante sempre. Si festeggia il lavoro, quel lavoro che fa parte della nostra Costituzione, anzi che è lo spirito, l'elemento fondativo della nostra Repubblica e quindi è una festa repubblicana importante in cui tutti noi ci riconosciamo. Il lavoro non è solamente il sostentamento della nostra vita, il sostentamento delle nostre famiglie, dei nostri cari, quell'attività che ci consente di vivere con quello che guadagniamo ma è anche l'essenza stessa di quello che facciamo, è la passione che ci mettiamo, è la capacità di innovare il proprio lavoro, il proprio contributo, lo sforzo che mettiamo con il nostro lavoro a far crescere tutta la collettività. Quindi è una festa dai molti significati, una festa importante, direi una festa strutturalmente fondante del nostro stare insieme. Eppure questo primo maggio ha una ragione in più, ha un significato in più importante. Da pochi giorni, con molte difficoltà e con qualche polemica che in democrazia è sempre benvenuta, se porta a crescere anche a rivedere le nostre idee, abbiamo riaperto il Paese, stiamo riaprendo il Paese dopo un anno e tre mesi di Covid, di dolore, ahimè, di morti, tanti morti, troppi morti, di persone che ancora oggi, mentre vi parlo, stanno nei nostri ospedali, di medici stremati con gli infermieri, con gli operatori sanitari, in un lavoro che nessuno si aspettava di dover affrontare, che è stato affrontato con grande abnegazione. Noi questo primo maggio festeggiamo non solamente il lavoro, ma festeggiamo il ritorno al lavoro e festeggiamo la possibilità, l'auspicio che molte persone che mi ascoltano possano tornare al lavoro nelle prossime settimane. Quindi festeggiamo, se ci riusciremo, la campagna vaccinale che finirà, festeggeremo finalmente la vittoria definitiva su una malattia che tanto ci ha fatto soffrire, tanto ci ha colto di sorpresa, festeggeremo l'inizio, il nuovo inizio della nostra vita che è fatta anche e soprattutto del nostro lavoro, della possibilità di aprire il proprio negozio, di aprire il proprio ristorante, il proprio bar, di andare dai propri colleghi d'ufficio, magari abbandonando quello smart working che ci ha chiuso nelle case per un lungo periodo di tempo e tornare alla socialità, tornare al confronto, tornare a vederci, ad abbracciarci, a costruire insieme questo grande paese, un grande paese che oggi, mentre si chiude l'epoca del Covid, lo speriamo tutti, apre la grande epoca del recovery, della ripartenza, della crescita, cioè quell'epoca che è stato il boom economico, che è stata la ripresa del dopoguerra, dopo la doloresissima seconda guerra mondiale, dei nostri nonni e dei nostri genitori. Quindi ha un significato particolare, vi invito tutti a rifletterci per qualche minuto in questa giornata che poi dedicheremo, oltre alle celebrazioni ufficiali, ovviamente alle proprie famiglie, ai propri affetti, alla propria vita. Riflettiamoci quanto è importante il lavoro, riflettiamo quanto è importante questo anno che abbiamo appena passato e che ci ha visto perdere alcune delle cose che ritenevamo scontate, come appunto poter andare a lavorare nel proprio ristorante o nel proprio bar, o poter abbracciare i propri familiari in un'altra regione o poter incontrare i propri amici e continuiamo tutti quanti insieme con uno spirito di collaborazione che non vuol dire rinunciare alle proprie idee, ma vuol dire metterle insieme a quelli degli altri per costruire qualche cosa di futuro. Continuiamo questo percorso che abbiamo fatto per tornare a vivere tutti insieme e possibilmente per fare tesoro anche di quello che abbiamo imparato di doloroso in questo anno. Buon primo maggio a tutti, alle lavoratrici e ai lavoratori e speriamo in un'Italia che dia molto, tanto lavoro in più di quello che ha dato fino ad oggi a tutte le nostre donne, a tutti i nostri uomini e ai nostri ragazzi che si affacciano per la prima volta a quel mondo. Ciao a tutti e buon primo maggio.